Mi dispiace per tutti quelli che in ascolto si aspettavano di vedere la mia bellissima, strepitosa faccia, ma questa mattina non ci sarà perché non sono ancora riuscito a finire il mio setup della scrivania. Ma andiamo a vedere i mercati. Come vi dicevo ieri, su Bitcoin ho visto un incremento della total, quindi della capitalizzazione di mercato qualche giorno fa. Vi avevo mandato un messaggio di Whale Alert su Telegram e vi dicevo guardate che c'è una strettissima correlazione tra la market cap e il prezzo di Bitcoin, proprio in termini di movimentazioni date da exchange. Faccio un esempio banalissimo, così a caso, tipo Binance, che sposta miliardozzi di qua e di là manipolando a suo piacimento qualsiasi cosa lo può fare. Sì, perché questo mercato non è regolamentato. Come vi dicevo ieri, sempre sull'audio, o vi va bene e cercate di cavalcarlo, o non piangete nel caso di perdite, perché non è che si può solo accettare il fatto che la volatilità sia nostra amica quando va in alto. Dobbiamo accettarlo anche quando va in basso. Mi raccomando Massimo, attenzione. Ma non è questo il succo del discorso. Il discorso qual è? È che ho notato che il mio indicatore performa molto, molto meglio se io vado proprio sulla market cap di Bitcoin. Quindi non tanto su exchange vario, sul grafico del CMI o... Ho visto, ho visto ragazzi, che il numero uno per il mio indicatore, il grafico numero uno per il mio indicatore è quello della Total. Andiamo a vedere quindi, andiamola a vedere. Dopo questa brevissima introduzione, avevamo visto, guardate, che bella liquidità qui che c'è stata. Questo era stato identificato, vedete, con questa riga rossa come una zona di supply. Questa zona è stata rotta allo stesso livello, no? Vedete dei... diciamo di questa liquidità. Il prezzo è andato su, che è un amore. Vediamo che l'RSI sta seguendo questa salita. Vediamo che siamo arrivati praticamente, diciamo, anche abbastanza precisi. Guardate, questo era il livello, diciamo, del trend principale, no? Che avevo valutato, che l'indicatore aveva valutato. E praticamente siamo allo stesso livello, lo abbiamo leggermente superato. Detto questo, che cosa vi voglio dire? Al di fuori del grafico, ricordiamoci sempre che questo movimento di Bitcoin è del... Se prendiamo, diciamo, per il momento picco picco, è sempre un bel 21%. Ci potrebbero iniziare ad essere i primi momenti in cui vengono alla fine presi i profitti. Io avevo detto, guardate che, basandomi sempre sull'indicatore, guardate che c'è una bellissima dose di ordini short intorno ai 31.600. Vi avevo mandato un messaggio, vedete, questo è il grafico del CME, che era il livello dove il mio indicatore, eccolo, dava come possibile zona di supply, ok? Quindi zona massima dove il prezzo sarebbe potuto arrivare. È stato rotto con forza. Qui, proprio in questa situazione, è uscito, qui, è uscito la news dell'ETF di BlackRock e bla bla bla, e via dicendo, e sappiamo tutti che ieri l'hanno delistato, hanno visto che non era vero, poi questa mattina l'hanno rimesso. Tutte queste notizie potete andarle a vedere sul canale di Riccardo, quindi andate sul mio canale di Telegram e lo vedrete perché siamo sempre lì in contatto. Il canale si chiama, se vi dovesse interessare, si chiama Bitcoin e Crypto News Italia, 2500 iscritti, quindi guardatelo. E se invece volete notizie sempre aggiornate sul discorso di Altcoin, andate a vedere il canale di Mauri, Bitcoin e Crypto Strategi con Mauri. Perché sono, secondo me, le fonti che, cioè conoscendo anche le persone che poi scrivono le notizie, sono quelle che vi fanno rimanere sempre aggiornati, poi a secondo di quello che vi interessa andate a leggerlo o meno. Ma questo è un altro discorso. Allora, andiamo a vedere poi il grafico, quindi ritorniamo un attimo al grafico della Total, perché, come vi dicevo prima, è quello lì che secondo me performa un po' meglio, dove performa meglio il mio indicatore, e vediamo che per il momento ci troviamo sotto alla media, guardate, questa è una media, scusate non mi si muove più, eccolo. Allora, vedete questa linea che si muove, eccola qui, vedete dove, che praticamente sta sostenendo, no? Vedete il prezzo di Bitcoin? Per la prima volta ci siamo andati sotto e l'abbiamo usata come resistenza. Vedete questo punto qui? Ora, il livello che dovremmo tecnicamente andare a sbilanciare diventa questo qui. Di conseguenza, questo è il minimo da andare a sbilanciare, il precedente minimo, questo qui. Cosa voglio vedere? Voglio vedere che ancora potremmo andare a, diciamo, a lateralizzare in questa zona, a fare una bella presa di liquidità, che sarebbe perfetta, perfetta, se non andassimo poi a superare questo livello chiave, quindi a rompere questo livello chiave, e poi da qui magari partire con un qualcosa del genere come prosecuzione del trend. Questo sarebbe, vabbè, qui stiamo parlando proprio del top del top, ok? Ho detto questo, ma in realtà potrebbe fare tranquillamente anche un qualcosa del genere, quindi lateralizzare ancora in questo range, e ecco, romperlo magari e poi farci una cosa del genere. Anche questo sarebbe, diciamo, avete capito il concetto, insomma, che deve andare a fare una presa di liquidità, un bello sbilanciamento per proseguire il trend. Caso contrario, però, cosa che secondo me ci potrebbe stare benissimo, è anche qualcosa del genere, quindi andiamo a prendere liquidità sopra questo massimo, ok? E potremmo addirittura fare un qualcosa del genere. Vedo che sta funzionando ultimamente il pattern che vediamo spesso è questo, no? È la Wolf di cui tanto mi sentite parlare. Questo è un pattern che ultimamente sta funzionando, quindi direi che potrebbe fare anche un qualcosa del genere. Però, ecco, vi dico, non lo so, io mi aspettavo che lateralizzasse ben più in basso, invece siamo andati a lateralizzare sul prezzo molto più in alto di quello che mi aspettavo. Era un qualcosa solo così per dire. Andiamola a vedere, però, sul prezzo cosa farà questo cavolo di movimento. Ecco qui, qui abbiamo un bel, questo bel movimento, abbiamo qui, tra questo, vedete, ora ve lo indico, abbiamo queste zone, quindi la zona dei 33 all'incirca, che può essere vista come una zona di calamita dal prezzo, per poi, ecco, vi dicevo, continuare al rialzo. Mi raccomando, questa potrebbe essere un qualcosa del genere assolutamente possibile, assolutamente possibile. Andiamo a vedere anche come si comportano le altre. Vediamo Ethereum. Andiamo a vedere Ethereum che ha rotto... Ah, vedete, su Ethereum c'è il primo segnale, quindi che potrebbe essere una presa di liquidità. Vediamo come vanno nelle ore successive, perché addirittura acquista anche sotto al livello di prezzo, ci troviamo sotto alla linea che prima, diciamo, faceva da supporto al prezzo, e addirittura adesso abbiamo rotto anche la zona del livello chiave. C'è questa zona forte di volumi, ok, tra, diciamo, i due livelli chiave e questa zona di volumi probabilmente l'andrà a sentire il prezzo, perché qui ci sono stati un sacco di scambi. Di conseguenza, questo potrebbe essere non solo, per il momento, un effetto calamita, ma poi un effetto dove il prezzo potrebbe andare a rimbalzare. Di conseguenza, questo segnale, quindi, molti di voi adesso vi verrebbe da dire, ma cavolo, ha rotto il livello, quindi vuol dire che ci dobbiamo, per forza, aspettare che il prezzo faccia questo meno 8,44 e vada a livello chiave, no, di prezzo. In realtà sì, perché è questo proprio il movimento del mio indicatore, è questo il segnale del mio indicatore, di breve, parlo, però abbiamo questa zona di volumi al centro, ecco perché vi dico, bisogna interpretarlo, ok? Poi su questa zona di volumi, sempre qui, come vedete, guardate un po' che cosa c'è, adesso tolgo questo, c'è la parte bassa del trend, c'è la parte inferiore, ok? Di questo, di questa area, guardate questa area, vedete, colorata in verde, e qui ci troviamo, guardate quante cose qui ci sono, c'è questo livello volumetrico, e questo livello dove il prezzo, vede come, cioè il mio indicatore, vede come minimo di questo trend a rialzo, confermato poi anche da questa precedente resistenza, che potrebbe andare a fare da supporto al prezzo. Ethereum, in realtà, in realtà ragazzi, si trova su una fase dove intorno ai 1750, più o meno, potrebbe tranquillamente salire, insomma, non è che, non è una fase così brutta come può sembrare, quindi ci potrebbe assolutamente stare una proseguizione del trend, soprattutto se le candele continuano, vedete che queste candele sono più chiare di queste verdi, vedete qui che differenza che c'è, quindi se dovessero continuare queste candele così verdi più chiare, insieme a questa presa di liquidità, e diciamo il livello di prezzo che si mantiene, no, sopra a questo 1750, potremmo assolutamente prenderlo in considerazione per una proseguizione del trend. Questo è per quello che riguarda Ethereum. Andiamo a vederci DOT, DOT, DOT ragazzi è un po' deboluccia, è un po' deboluccia, al di fuori di questo bellissimo impulso che ha fatto, DOT è in fase di ritracciamento, perché questo in realtà, questo che sta facendo, questo che stiamo vedendo dal massimo di riferimento, che è questo a 4,36, stiamo vedendo alla fine una sorta di ritracciamento, anche DOT ha una zona molto forte di volumi, proprio in questa zona, ecco, rompere questa zona di volumi, secondo me potrebbe aiutare, aiutare moltissimo per una proseguizione del trend, perché poi ci troveremo direttamente, sempre grazie al mio indicatore lo potete vedere, sopra alla zona, vedete, del trend principale, entreremo nel trend principale. però la vedo debole, vedo debole, non vedo, mi sembra che non ci sia, non ci siano compratori, ecco, non ci siano compratori, questa qui è una zona, vedete dove sta andando adesso il prezzo, potremmo quasi dire che è una, no quasi dire, così è una presa di liquidità a tutti gli effetti, staremo a vedere, anche questo si trova, anche il prezzo di DOT si trova sotto, alla media che prima sorreggeva, diciamo questo impulso, e adesso ci troviamo, guardate, il livello di prezzo gli fa da resistenza, per il mio indicatore, non è che siamo messi molto bene, ok, su DOT, ed ecco perché vi dico, vedo anche poco interesse, mi sembra ci sia, da parte degli investitori. Non lo so, non lo so, io, allora, dal mio indicatore, non abbiamo buone, buone prospettive, dico la verità, perché qui potremmo tranquillamente, tranquillamente, tornarci in queste zone, quindi nella zona dei quattro. Monitoriamo, monitoriamo, io sapete che sono fuori, quindi, voglio uno storno, voglio uno storno generale dei mercati, e poi per l'audio che vi dicevo ieri, chiaramente vado molto cauto, va bene? Molto cauto, da adesso in poi, chiaramente, va bene? Fatto questo, andiamo a vedere un attimo, anche il gold, perché qualcuno me lo chiede, andiamo a vedere cosa fa, in realtà, fase di salita, ora sta lateralizzando, anche qui ci troviamo sotto, la media, ma sopra, il livello chiave. Sono messe un po' tutte così, dollaro, vediamo, ecco, dollaro invece, ci ha dato questo segnale short, in questo punto qui, abbiamo preso questa liquidità, abbiamo rimbalzato, io aspetterei, perché il dollaro sembra, sembra un attimo, non voler proseguire, ci sono più segnali short, adesso vediamo, se anche qui darà un nuovo segnale short, magari se va a rompere questo minimo qui, ci potrebbe sicuramente stare un altro segnale short, ma vediamo, vediamo, questo segnale short è stato preso, questi due si sono fatti sentire, quindi, bene, bene, noi vediamo sempre anche l'indicatore, lo vedo insieme a voi, se performa, non performa, andiamo a vedere cosa, andiamo a vedere qualche altcoin, allora, l'ho messo qui, andiamo a vedere link, andiamo a vedere, Solana, allora, c'è il link, bene, lo sapevamo, io vi ho segnato qui, dove sono uscito, poi il prezzo ha lateralizzato, ho fatto questa presa di liquidità, anzi, non tanto presa di liquidità, ma vedo che ancora si stanno comprando, si sta comprando sopra al massimo, vedete, questo è il massimo, qui si sta comprando, vediamo, vediamo perché in effetti il link non sembra assolutamente avere la voglia né di ritracciare né di fare niente, guardate, si trova ancora sopra questo livello di media mobile, si trova sopra il livello di prezzo del livello chiave, si trova sopra il livello dei volumi, insomma, il link ancora è forte, shortare il link adesso è difficile, entrare è difficile, perché comunque si è sparato dalla mia entry un bel 50%, e quindi capite da soli che non è un titolo, non è una coin, non è un token da shortare, qui c'è una wolf, su sol, si è creata una wolf, la mettiamo, attenzione perché la wolf sta performando molto bene, troppo bene direi, quindi potremmo vedere o un ritorno in questa zona, bene, quindi in quest'area, area dei 28, oppure potremmo tranquillamente avere in caso di una rottura intorno ai 32, potremmo vedere ancora se i trader vogliono comprare sol a questo livello di prezzo, sol è messa molto bene graficamente, e vediamo, anche qui monitoriamo un attimo, poi non so, mi è stato detto di vedere un altcoin che era VRA, da questo, questo qui, siamo sul trend principale long, qui ci siamo mossi molto molto bene, abbiamo rotto questi massimi qui, ci potremmo tranquillamente ritornare, perché? Perché questi erano dei livelli di supporto, adesso lo faccio più grande in modo da far vedere, questi qui erano dei livelli di supply, vedete, scusate, di resistenza, non di supporto, e adesso forse diventeranno di supporto, e anche questo potrebbe essere un, non so, non mi ricordo chi me l'aveva chiesto, forse Simone, dalle chat, anche questo qui dovrebbe, potrebbe essere un livello per una prosecuzione del trend, va bene, grossi cambiamenti di trend non ce l'abbiamo, perché l'1H e il 4H rimangono forti anche con l'incrocio delle medie mobili, sì, ci troviamo sotto la media, ma comunque sopra il livello chiave, che anche qui ha fatto da supporto, è un buon titolo, per il momento non mi dispiace, non mi dispiace, io da qui non lo shorterei ancora, non shorterei un titolo del genere, comprerei, sì, si potrebbe comprare, ma tornando a questo livello, quindi 0,0054, ok? Sì, ma questi sono titoli poco capitalizzati, qui il rischio è altissimo, io, cioè, se mi chiedete, mi consiglieresti di entrare in questo token, io vi direi no, vi direi no, ma non perché, perché non è il mio stile, non vi dico che sia sbagliato, vi dico che io non, difficilmente trado questa roba, perché questa roba, come vedete, fa questo, cioè, vedete, fa questi super pump, poi guardate, senza dirti nulla, sbam, torna, io non la rischierei una roba del genere, questo è gambling puro, cioè, questa è una roba di, è un grattevinci, io non faccio questa roba, ma non perché, non credo nel progetto, cercate di capirmi, ma perché non la faccio questa roba, non trado qui, non devo flippare il conto, io l'ho detto sempre, più vado avanti, più lo dico, quindi, ecco, mi interessa, ma relativamente, relativamente, saperlo, io, quindi comunque, graficamente ha messo abbastanza bene, io, sconsiglio, di andare su queste robe, con capitale pesante, andiamo a vedere Matic, il buon Policon, andiamo a vedere che cosa fa, ma le crypto, ragazzi, vedete che le altcoin, sono messe più o meno tutte uguali, cioè, questa fase forte, questo impulso forte, ci troviamo un po', ecco, su queste due, quindi, tra la media e il livello chiave, livello di volume al centro, che potrebbe, di nuovo, sostenere il prezzo, nel caso, il prezzo dovesse arrivare, magari, qui a uno 0,59, 0,60, siamo stati rimbalzati, dal minimo del trend, eccolo, vedete, in questa zona, il prezzo è rimbalzato, scusate, sì, è rimbalzato, volevo dire, volevo dire che, ha sentito comunque, questo livello di prezzo, andiamo a vedere poi, se, nelle prossime ore, che ci darà, se ci darà un segnale, ecco, in questa zona, 0,60, per chi volesse, rientrare, in queste zone, con Matic, ecco, siamo nemmeno, 0,25%, ecco, 0,25%, adesso è il ritracciamento, se non scende, se non scende, se non dovesse scendere, da questo livello, e dovesse rompere, questa zona qui, qui potrebbe essere, tranquillamente, una prosecuzione di trend, almeno, fino alla media mobile, a 200 periodi, che la incrocerebbe, intorno, così è, faccio a spanne, 1,070, eccolo qui, qui, quindi, sarebbe, da, da questo livello, di prezzo, se vi interessa, un bel 13%, ma, ripeto, se non avete una strategia chiara, per, per tradare questa roba, state fuori, non vi andate a spericolare, perché poi, se il prezzo viene giù, per qualche motivo, vi fate, di un male cane, con le altcoin, mi raccomando, stateci con la brocca, stateci, perché, mi dispiacerebbe, mi dispiacerebbe, che poi, andate a perdere, dei soldi, allora, detto questo, io ritornerei, se siete arrivati, fino a qui, io, voglio, che mi scriviate, il nome, dell'indicatore, cioè, come lo chiameremo, l'indicatore, ok, io, ancora non ci ho pensato, scrivetelo, poi, faremo, un bel sondaggio, di tutti quelli, che l'hanno fatto, che l'hanno scritto, che mi hanno dato l'idea, vedremo, qual è il nome, che piacerà di più, e ce lo chiameremo, così non sto, ogni volta, a dire il mio indicatore, il mio indicatore, ma lo chiameremo, per nome, detto ciò, io spero di aver accontentato, un po' tutti, se c'è qualcosa, che volete, che io visioni, nelle prossime giornate, adesso, provo a rifarmi vedere, per salutarvi, chiaramente non funziona, sì, ecco, ciao, nelle prossime giornate, nelle prossime sedute, andiamo a vedere, se vi interessa, me lo andate a scrivere, su telegram, io, per il momento, in versione, incappucciato, anche a casa, non so, sembro un, guardate, un hacker, vi saluto, e ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi, e ci vediamo alla prossima, e ci vediamo alla prossima,